non pensiamo troppo al futuro e non preoccupiamoci di quello che avverrà o accadrà non sappiamo nulla di quello che accadrà tra qualche secondo o minuto o giorno mese anno nessuno è sicuro il 100 per cento di continuare a vivere in questa dimensione tanti muoiono improvvisamente mentre sono intensamente occupati a fare altre cose o muoiono nel sonno moltissimi programmano la loro vita ma poi si ammalano gravemente operiscono in incidenti di ogni tipo tutto ciò che avevano programmato finisce nel nulla rimane solo l'amore la loro anima davanti al creatore arreca questo amore con sé non portano nulla nemmeno i vestiti la casa i conti correnti le varie proprietà l'anima è l'unica cosa immortale che ci resta purifichiamoci e lasciamo stare i piaceri peccaminosi che portano solo alla rovina ed offuscano la nostra capacità di amare dio e le persone non